Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi continuiamo la serie di Far Cry 6 parte 4. Questa è la serie dei giochi non ho un'idea a run, quindi vi invito a lasciare un bel mi piace, a iscrivervi al canale e detto questo possiamo partire. Ma sto parlando di strutture, Dani. Andiamo al lavoro e vi mostrerò. I Supremi non sono solo semplici strumenti di distruttura, Dani. Vediamoci questo Supremo. Il ingrediente speciale che fa questo tutto... Prendi un gadget, Dani. Questo è un spazio sicuro. Non c'è una falsa risposta qui. L'amore è simpatico. Dio, che pochezza. 1-2-1. Carriera, andiamo a Guindic. Bene, sei qui. Non devo dire che Bevero è il regime di vita del Castillo. Ha costruito campi di lavoro per produrre tutto il mondo di Yara. Queste plantazioni usano gli outcasti, giocano il campio di slave. Suerte! Ah beh, tutto qui. Praticamente tu mi dici quello che devo fare e io devo farlo. Capita. Hola! Cos'è questa roba? Hola guerrilla! Time for a test drive of that supremo. Now if things get too heavy with the soldados, just pull the trigger. But one tiny, tiny thing you should know. Uh huh. The supremos are in an... ...experimental phase. They need time to breathe after you use them. You know, so they don't over... ...so they don't over... ...so they don't over... ...so they'll kill you. Could've told me before I strapped one to my back. Just let that supremo feed off the blood of your enemies. What? You'll get it, Danny. You'll get it. Come on. Shit. I haven't ridden a horse since basic training. ... ... ... Oh no! Io devo fare a pezzi questo posto. Ok. 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 Volontanino. Cosa. Cosa. Allora, devo seguire il cocodrillo, capito? No, invece no. Muoviti madonna mia, sei lento. Up here, dale! Si! See the Vivero tobacco in the yellow poison tanks? Bomboletta spray. Si! Punch holes in the tanks to let the poison out into the air. Fun fact, poison and fire make a hell of a mix. Big boom. Same idea with the fumigators. They're hard to kill, but they can't take the heat. You've got a flamethrower. You've got that supremo. Time to fuck up all this Vivero bullshit. Ah, ok. You know, Leta and I had a ritual. Psycho sub before battle. A song. Hit me. The movement of freedom. Oh, Bella Chow, Bella Chow. Oh, my God. Oh, my God. puoi morire lì, quindi devo andare là. Allora per me puoi morire lì, te lo dico. Ancora. Ciao, bella ciao, ciao, ciao. Forlita. Forlita. Let's make some chaos, Danny. E cosa devo fare? Un dato. Shit, that was close. Go, go, go. Forlita. 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 No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no E' un po' di più! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Spinnendo! Oh, 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 oh! Ah, questo dove si vende! Eh... Insomma... Oh, 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 oh! On my way! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Hmm... Burning shit with a flamethrower? That's familiar. Oh, oh... Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Ah! Ho fatto finire tutto il lancio a fiamma. Parliamo? Ce la facciamo? Se non ti metti davanti non è contento. Non volevo dire che ti ho detto, ma... Ci sta provando? Ci stai provando? Stai giù? Spostamento rapido! Non ce l'ho lo spostamento rapido? Stai giù! Stai! Stai giù! Stai giù! Stai giù! Stai giù! È finito tutto. È finito. In questo momento vorrei poter andare avanti con la levetta automatica che premia e va avanti da solo, tipo Neverwinter. È troppo grande questa mappa di esplorare tutta, io non ho la pazienza. A un mezzo, niente. Guarda quanta strada. Supremo pronto. Ma quando mai? Ah, così, si ricarica così a caso. Ok, non sapevo. Oh, dove sono finito? Aiuto, cato. Ah, via. A ver, chicha Devo prendere la macchina Mi dispiace, sorella Ok, eccoci di nuovo qua Oggi abbiamo finito la parte 4 È stata abbastanza divertente Tutta sta cosa qui di dare fuoco un po' a tutto Mi sentivo un po' un piromane Però va bene così Diciamo, per così dire Quindi niente, io spero che vi sia piaciuto Eventualmente lasciate un like Iscrivetevi al canale E ci sentiamo al prossimo video